Grazie a tutti 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 per la ventana l'intena natin prima no l'intra che suda so that's where the tunnel passes through and there's like side windows or side openings on each side ito yung bita na nun tunnel Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti.